Allora noi abbiamo scelto i Senzatempo Live innanzitutto perché sono dei ragazzi e dei musicisti meravigliosi il nostro problema era organizzare questo matrimonio da Roma quindi la musica essendo una delle cose principali del matrimonio, una delle cose diciamo più importanti Giovanni di Senzatempo è riuscito ad accontentarci in tutte le nostre richieste e ad aiutarci ad organizzare questo matrimonio nella via musicale nel miglior dei modi dalle postazioni, al limite d'orario che non c'è stato nessun limite d'orario da un po' a tutto, veramente tutto e sono stati bravissimi dal primo all'ultimo veramente bravi e lo consigliamo vivamente a tutti futuri sposini e i Senzatempo perché sono meravigliosi auguri e in bocca al lupo grazie